Come il profeta Isaia è fonte di gioia riconoscersi piccoli e deboli, ma sapere che con l'aiuto di Gesù possiamo essere rivestiti di forza e intraprendere un grande viaggio nella vita in sua compagnia. Così Papa Francesco si è rivolto ai 12.000 amministranti venuti a Roma da 20 paesi del mondo per partecipare all'undicesimo pellegrinaggio internazionale, dopo aver compiuto un lungo giro in papamobile in piazza San Pietro in compagnia di due piccoli chierichetti. Le parole di Isaia, eccomi manda me, tema del pellegrinaggio dei ministranti, sono risposta alla chiamata di Dio, che fa sempre la prima mossa nella nostra vita. Il profeta, ha spiegato il Papa, si accorge che l'azione divina non viene impedita dalle sue imperfezioni, che è unicamente la benevolenza divina a renderlo idoneo alla missione, trasformandolo in una persona del tutto nuova e quindi capace di rispondere alla sua chiamata. Come Isaia, ha aggiunto Papa Francesco, anche noi siamo invitati a non rimanere chiusi in noi stessi, custodendo la nostra fede in un deposito sotterraneo nel quale ritirarci nei momenti difficili, ma a condividere la gioia di riconoscersi scelti e salvati dalla misericordia di Dio. Com'è bello scoprire che la fede ci fa uscire da noi stessi, dal nostro isolamento e proprio perché ricolme già la gioia di essere amici di Cristo Signore, ci fa muovere verso gli altri, rendendoci naturalmente missionari, ministranti e ministrante missionari. Così vi vuole Gesù. Più sarete vicini all'altare, ha concluso il Papa, più vi ricorderete di dialogare con Gesù nella preghiera quotidiana, più vi ciberete della parola e del corpo del Signore e maggiormente sarete in grado di andare verso il prossimo portandogli in dono ciò che avete ricevuto.